Ora alcune tecniche di rottura per approvare la forza fisica, la forza interiore e quindi l'abilità a sopportare anche le colpi duri. Come le tecniche vengono praticate sono gli allievi avanzati e si ottengono dei risultati strabilianti con una lunga preparazione basata sulla respirazione e sulla concentrazione. Gli immediati devono esistere in atto ed ecco un colpo doppio sulle branche. Ora attenzione perché vi stanno mostrando un pezzo di metallo e questo pezzo di metallo sentire anche il rumore dovrà essere rotto con la tecnica di destra. Ora vediamo, è una prova molto impegnativa. Avete visto? La spara metallica si è trattivata. Il colpo è stato veramente un colpo estremamente secco e veloce che ha provocato questo effetto senza riportare ovviamente nessun danno sul praticante.